Il settore della ristorazione collettiva cosa chiede al Governo? Quali sono i punti principali? È un po' in allarme, lancia un po' un grido di aiuto oggi. Sì, noi chiediamo al Governo interventi legislativi urgenti nell'ambito dei prossimi decreti aiuti perché il settore della ristorazione collettiva sta vivendo un momento di assoluta emergenza legata all'inflazione, agli aumenti legati all'aumento dei costi energetici e specialmente riferito ai nostri contratti di appalti con la pubblica amministrazione noi non ci vediamo riconosciuti i costi che noi sosteniamo in questo momento a causa proprio del codice degli appalti quindi noi chiediamo un intervento legislativo urgente in questo senso in modo tale che ci sia permesso, un po' come è successo per i lavori pubblici che con il decreto 73 hanno previsto la compensazione per alcuni costi dei materiali escludendo di fatto il comparto dei servizi chiediamo questo riconoscimento un po' come è successo per i lavori pubblici